C'è il sipario sulla seconda edizione del Cilento Wine Festival, la kermesse dedicata all'eccellenza vinicole cilentane, ai produttori e alla gastronomia di qualità. Le antiche cantine del borgo medievale di Monte Cicerale rivivono per offrire ad appassionati o semplici curiosi le premianze delle aziende San Salvatore, Maffini, Barone, Rotolo, Polito, Cardosa, Marino e Cobellis. Un evento che vede il suo punto di forza in uno staff di giovanissimi tra i 17 e i 37 anni capaci di fare del Cilento Wine Festival un polo attrattore di qualità ed un momento di condivisione. Punto di forza l'organizzazione, giovani dai 17 ai 37 anni? Sì, ovviamente quando si ha a che fare con giovani, ma non solo i giovani perché è un settore dove si possono fare tanti errori, quindi siamo partiti l'anno scorso facendo degli errori, abbiamo cercato di migliorare quegli errori commessi, poi ovviamente i ragazzi devono imparare, non è che tutti possono avere, però hanno quell'entusiasmo sia di quelli oltre trentenni che i ragazzini e i ragazzi di 20 anni, quell'entusiasmo di voler fare che penso sia la cosa più importante per trainare questo progetto perché è un progetto oggi, non è solo una manifestazione in sé, abbiamo in mente tante cose, speriamo che ci aiutino magari, aiuto non di, ma di condividere la nostra idea, questo è quello che più ci interessa. Singolare nel suo genere, riconosciuto dalla stampa nazionale, il Cilento Wine Festival sarà protagonista di un documentario istituito dal GAL, gruppo di azione locale, inoltre arriverà sulle reti Rai all'Expo 2015 e travalicherà i confini giungendo a Berlino. Non solo enogastronomia di qualità, il Cilento Wine Festival è anche momento fertile di dibattito sui territori e sulle possibilità di sviluppo, tra gli ospiti Francesco Palumbo, sindaco di Giungano, il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco e il sindaco di Agropoli Franco Alfieri. Ci sono delle cose che prescindono dal clima, dal tempo e dalla stagione. Il grande attrattore mare ovviamente si chiuderà il sipario a settembre perché il nostro turismo balneare è legato a pochissime settimane di luglio-agosto ma il sipario non si chiude sull'enogastronomia, sulle manifestazioni sportive, sulla cultura, sui beni culturali, sugli eventi. E noi ad Agropoli, perché parlo di Agropoli, abbiamo legato molto sul turismo alla leva dello sport, la costruzione di due impianti sportivi importanti, due palazzetti con le federazioni regionali e nazionali che hanno portato degli eventi nel nostro territorio, hanno fatto sì che le strutture recettive possano ospitare migliaia di persone anche durante la stagione invernale, primaverile e autunnale. Quindi bisogna muovere gli interessi. La gente non si muove soltanto perché c'è una città rinomata, si muove perché nella città rinomata o nel paese o in quel territorio c'è qualche cosa che lo interessa o li interessa, interessa loro, i propri figli, la propria famiglia, le proprie passioni. Se siamo intelligenti e siamo capaci di cogliere questo nuovo modo di intercettare e attrarre persone, vuol dire che siamo sulla buona strada. Bisogna passare un po' dalle chiacchiere ai fatti. Le ricette le conosciamo tutti, gli elementi per cucinare ci sono tutti ma anche chi impasta e chi sa cucinare. Noi in questo territorio stiamo dimostrando di saper produrre anche cose eccezionali. Ovviamente c'è tanta problematica legata alla mobilità, a cornici desolanti di cose che non funzionano e che non riguardano gli enti locali, la regione e la provincia, però non significa che bisogna rassegnarsi e bisogna buttare la spugna. A maggior ragione, se ci sono enti che non funzionano, noi dobbiamo compiere sforzi maggiori per migliorare e per far crescere le opportunità di lavoro e di sviluppo e di progresso nel nostro territorio. Prende attenzione alla cultura del vino in ogni sua peculiarità, dalle caratteristiche chimiche alla cultura alla vinificazione. Grazie a Maria Sarnataro, delegato a Est Cilento e Vallo di Diano, che ha guidato gli ospiti in un vigile percorso di degustazione, coinvolti i cinque sensi in ogni singolo istante in sinergia con la location, luogo della genesi, delle opere dell'artista Maddalena Cilione. Le due arti, vinicola e pittorica, si incontrano in un gioco cromatico rapido ed incalzante, tridimensionalità e policromia, chiamate in campo a proiettare ogni visitatore quasi in mondi paralleli, dove nulla può essere spiegato se non il genio creatore. Queste opere quando vedono la propria genesi? Allora, queste sono state realizzate un anno fa perché avevo questo progetto, i colori dell'Africa, perché questo continente è così pieno di colori, così di cultura, mi ha ispirato. E poi portarlo in questo contesto, questo scambio della pietra, il colore grigio neutro della pietra con questi colori così vivi. Anche le tecniche, vedo, leggevo completamente diversa, una diversa dall'altra, quindi anche la sua capacità di essere polietrica. Sì, perché ogni quadro per me è un esperimento, è una ricerca, forse qualcosa che è interna, quindi sempre sperimentare colori, tecniche, tutto un insieme.